ciao che cosa questo è dalla nascita che parte da qui deve fare tutto il giro condanna Gesù a morte questo è l'orto degli ulivi tutto su, questo è tutto su questa è la flagellazione quando lo frustra qua se volcro ha la deposizione alla croce e dopo c'è qua la mia luce e poi quando viene è dopo nascita quando gli altri sono natalissimi quando gli abbiamo realizzato il metro è permanente speriamo che non potete mantenere per tanto tempo viene anche per l'amministrazione ma anche proprio la posizione viene da Lecce di Pesino e mandarlo grazie a tutti 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 grazie a tutti